Umbria, la felicità del cammino, di Rosa Matteucci. Al viaggiatore che si accinga a visitare la mia regione, intimo di partire da Piazzale Flaminio a Roma, per imboccare l'omonima Via Flaminia, che attraversa l'Umbria per buona parte della sua lunghezza. È la Flaminia la porta d'accesso triunfale all'Umbria. Percorrendo la terza Via Consolare incapperete in dettagli, presaggi e suggestioni architettoniche di luoghi da ricordare e da cui congedarsi mescolerete le visioni Umbre con quelle di altre città lontane, in cui non siete mai stati e che mai raggiungerete, per trasformare infine il ricordo in uno soltanto, immagine in cui saranno ricompresi tutti gli scenari visti e le emozioni provate. La mia terra ha il privilegio di esaudire un desiderio bruciante e antico di ciascuno, sentirsi ancora, per una volta, bambini puri, anime non sporcate dai compromessi della vita. L'Umbria è una terra aspra e gentile, povera e dolce, mistica e plebea, defilata e strana, una terra dove non c'è mai stato il sale e il pane da sempre sciapo, una terra che si può guardare e sentire fino a non poterne più senza essere mai sassi, ognuno pensando a cose tanto diverse, personali e nascoste, ma d'accordo, ciascuno nel suo intimo, senza saperlo, sul senso di pace e di completezza che elargisce da secoli a chi ci vive e a chi ci soggiorna. Perché in Umbria, una donnetta curva che rincasa passando lungo un fosso con un mazzetto di asparagi selvatici in mano, ovvero il carminio che sfuma il rosa antico di una nuvola che sembra dipinta da pinturicchio, ribadisce da secoli che si deve continuare a vivere, perché vivere è l'unica felicità possibile. Lasciata alle spalle la cascata delle marmore, che amo anche a secco, ci si avventuri nella selvaggia Valnerina, e si raggiunga Ferentillo, dove un Vittorio Gasman stralunato vestì le insegne di Brancaleone da Norcia, agli ordini di Mario Monicelli. All'ingresso della cripta della chiesa di Santo Stefano a Ferentillo, vi è un cartiglio che recita Oggi a me, domani a te, io fui quel che tu sei, tu sarai quel che io sono. Pensa, mortal, che il tuo fine è questo, e pensa, purché ciò sarà ben presto. Il sinistro monito, noto in queste terre già stato pontificio, veniva insegnato ai bambini, almeno fino agli anni Sessanta. Come perfido Memento Mori, le pie madri obbligavano i piccoli umbri a recitarlo ogni qualvolta passavano davanti a un cimitero. Quei bambini, ormai anziani, ricordano ancora la filastrocca cimiteriale con terrore. Il cimitero ipogeo di Santo Stefano, pullula di mummie, sono quelle degli abitanti di Precetto, inumati dai frati Cappuccini, guidati da un'estetica horror pre-George Romero, a partire dal XVI secolo. Le mummie furono ritrovate dopo il fatidico 1806, quando, in seguito all'editto napoleonico di St. Claude, Decret imperiale sur les sepultures, si impose il divieto alle inumazioni entro le mura cittadine, cosicché si iniziarano a costruire i cimiteri. Gli abitanti della cripta di Santo Stefano, spontaneamente mummificati a cagione della natura del terreno e dell'umidità dell'aria, in un ambiente ideale, fresco, ventilato, asciutto, somigliano ai personaggi che popolano una delle città invisibili di Calvino. Il prevosto, la suora, la contessa, la contadina, i soldati napoleonici, la bambina, la vecchia, la madre della bambina morta di Rosolia, il governatore, i viandanti uccisi dalla peste, la lattaia, i pastori di pecore, il cerusico, il notaio, il fabbro, il contadino ricco, la perpetua e il falegname, il villico, il signorotto, la lavandaia, la zitella defunta in odore di santità, l'amante del prete, il gaglioffo, il bandito, l'allevatrice, il gesuita, la sarta e il barbitonzore. Gli scheletri se ne stanno lì, quieti e muti, eternati inghigni e pose talora orripilanti, scomposti, allucinati, ossuti simulacri di tableux vivants, borghesi o campestri, in un trionfo di tibie, femori, crani, dentiere, brandelli d'abiti polverosi e scarpini con la fibbia disegnati da John Galliano, c'è una madre che piange lo scheletrello prono di quello che fu un bimbo. Il signore è forse un notaio provvisto di sigillo, ovvero uno che maneggia tenari e imponeva gabbelle, composto nella bara con il berretto friggio, accessorio che la dice lunga sul suo potere in vita. La sposa cadavere, con un meraviglioso abito a fiorellini, sorridente, con il ghigno della morte, e orbite vuote e balluginanti sotto al velo di pizzo. La contadina con il sinale da cucina, seduta a gambe larghe, che piange anche da morta, forse per un raccolto andato a male, o per le bestie ammalocchiate, per la grandine o per la siccità. La bambinetta con la cuffia nel cassone e la vestina frusta. Infine, un ripugnante trittico di crocifissione senza croci, composto da tre scheleti in fila. Abbandonate le mummie di Ferentillo e riprese alla Flaminia, il cuore e lo sguardo si rallegrano e si incantano per il sentimento di gioia che si prova davanti alla facciata di San Pietro di Spoleto, una nobile chiesa romanica in cui una grazia divina suggerisce il compimento del rinascimento in fieri. Qui, cornici orizzontali si intersecano nelle sene verticali dove fin i bassorilievi illustrano parabole e raccontano favole morali. Nelle sculture della facciata impera San Pietro, cui la chiesa è dedicata. Nel bassorilievo La morte del giusto, l'anima del defunto viene pesata sulla bilancia di Dio. Siccome all'epoca si ignorava che l'anima pesasse solo 29 grammi, le pesature erano sempre per difetto. La bilancia pende dal lato di San Michele Arcangelo, celebre per le sue vittorie sul demonio, mentre Satana, brutto e goffo, ostende un cartiglio, mendace come solo lui sa essere, su cui è scritto Mi affliggo perché prima era mio, riferendosi allo sciagurato trapassato. Come in un manga medievale e futurista, San Pietro, sorpreso il demonio all'atto di rubacchiare sul peso, lo malmena in testa con le chiavi del paradiso. Più in basso si vede la scena della volpe spaparanzata sulla via, l'astuta bestiola si finge morta per ingannare il corvo e quindi divorarlo. Questa immagine mi colpì così tanto che è finita dritta in un mio romanzo, al pari delle moltiplici briciole, come quelle di Pollicino, che ho disseminato nelle mie opere per legarmi e legare alle mie origini. Raggiungere la Scarsuola è già un viaggio nel viaggio, superati Monteleone e Montegabbione, toponimi che mi hanno sempre affascinata per l'idea di un'enorme berlina, una gabbia destinata a una fiera di ragguardevoli dimensioni. Dopo essersi smarriti nel bosco si raggiunge il convento della Scarsuola. Il complesso fu voluto dall'architetto Tommaso Buzzi, che si è ispirato all'Ipnerotomachia Polifili, un romanzo allegorico della fine del Quattrocento. Nell'Ipnerotomachia si narra, in modo oscuro e greve di doppi sensi che non conducono ad alcuna verità degna, le vicissitudini dell'iniziazione amorosa del giovane Polifilo, che, guidato da cinque ninfe, i sensi, si perde in un bosco. Indy visita la maggiore fatata di una misteriosa signora, simbolo di libertà, e infine si fidanza in casa con la più bella delle ninfe, tale Polia. In questo romitorio San Francesco, nel 1218, si era ritirato a pregare in una capannetta su cui fu fondato un convento, che prende il nome da un cespuglio locale, La Scarsa, per l'appunto. Il complesso voluto da Buzzi è una fantasmogoria di scale, labirinti, viottoli, arbusti, gradini e pietre, un mantra architettonico di muretti tirati su a secco, cupole, facciate, tunnel, scalinate, torri, improvvisi trompleil futuristi, squarci di romanico, rinascimentale e gotico, moisaici, un affiteatro dove combattere battaglie navali. Su tutto lo scenario visibile a occhio nudo, domina un gigantesco busto femminile, che celebra la vita come sarebbe piaciuto a Fellini. L'architetto Buzzi qui edificò il suo personale teatro della memoria, che mi pare più di ogni altro manufatto esistente in Umbria, ove non difettano palazzi, chiese, pinacoteche, conventi, palazzi nobiliari, rocche e soprattutto affreschi, concretizzi la somma della storia artistica e sociale della regione, esoterica, mistica, visionaria, colma di spirito rinascimentale, oggettivamente anticlericale, poco incline a essere dominata. Alla scarsuola, a seconda degli stati d'animo mutevoli e soggettivi, potrete imbattervi nell'Axis Mundi, passeggiare per il teatro del finito, in quello del non finito, del corpo umano, che ci rammenta il peso concreto del corpo spirituale, dell'acqua, delle naumachie, delle alpi, e infine il teatro dell'aria. L'ipnerotomachia polifili mi ha affascinato e suggestionato per anni, finché non sono giunta alla conclusione che è una sorta di garbata ed esoterica presa in giro architettata da un frate. La città ideale di Buzzi appare la summa irreverente e sincera di tutta l'arte umbra, dalla Madonna di Gentile da Fabriano, la prima immagine di suo bambino sorridente, fino alle acciaierie di Terni, passando dalla foresta preistorica di Dunarobba. Si ammiri il colore che assume al tramonto la rupe di Orvieto, i possenti contrafforti di tufo tagliati a filo, lisci, compatti e impenetrabili, riverberano l'arcano di un'antica saggezza umana, immune dalle ingiurie del tempo e dei costumi. Infiorati verso l'alto da una trina di colombari, i contrafforti ospitano querule colonie di grosse proterve cornacchie. Deportate a Orvieto negli anni Ottanta per debellare i piccioni, le cornacchie persero l'onore, subito sconfitte dagli agguerriti piccioni, nella celebre battaglia di Piazza Duomo. Le supestiti ripararono così all'esterno della cinta muraria. I piccioni orvietani hanno seguitato a proliferare, tramandandosi la consuetudine di seminare fetenti tappeti di guano in alcuni punti strategici della città. Gli orvietani ben sanno quale pericolo si cieli nella strada che collega via Garibaldi alla piazza del liceo rinominata vicolo della bestemmia per la curva di 90 gradi che le automobili sono costretti a fare, ove il lato destro ha un arcobaleno di tracce di vernice di auto. Imbrigliata da possenti tiranti di acciaio, la rupe fu oggetto negli anni Ottanta di un restauro conservativo a cui si aggiunse anche Todi, da me in visa per aver goduto degli stanziamenti eccezionali contenuti nella legge voluta per Orvieto. Si scende a lungo la via Cava per percorrere l'anello che corre attorno alla rupe, cingendola in un amoroso abbraccio campestre per un tragitto di circa sei chilometri fatto di erte e di avvallamenti, un saliscendi fra castagni, ailanti, birichini, cespugli di spigo, pioppi, canne, olmi, olivi, ginestre e rosolacci, tane di ghiri, colonie di scoiattolini volanti. Arrancando e scivolando lungo il viottolo in senso orario ci si imbatte nella perfetta urbanistica della necropoli del crocifisso del tufo contornata di mandorli e quasi sempre deserta. Seguitando il tragitto attraversata rapidamente la strada asfaltata si passa per il castagneto da cui a fatica si risale fino alla terza delle porte orvietane sotto la rocca al bornoz infine ecco una nuova discesa sulla sinistra dietro il folto delle canne si cera la necropoli di Cannicella luogo misterioso inaccessibile dove sono stati riportati alla luce reperti fra i più interessanti a testimonianza del fulgore di Vesna la città santa degli etruschi chi si stancasse può riguadagnare la rupe in tre distinti punti quindi anche i più pigri possono facilmente affrontare il giro la morte la fantasia la felicità queste le dimensioni che servono per addentrarsi in una delle poche regioni italiane la sola del centro che non conosca il mare che circonda la penisola impossibilitata a scrutare e vagheggiare un orizzonte liquido la mia Umbria ha saputo navigare sulle onde del tempo senza bisogno né di una rotta né tantomeno di un approdo perché la bellezza del viaggio sta soltanto nel medesimo viaggiare ok Grazie.